Smartphone, PC, tablet e le loro applicazioni costituiscono degli strumenti potenti, in grado di fornire opportunità, ma allo stesso tempo essere fonti di pericolo per la salute psicofisica del bambino adolescente. E allora, come fare il genitore in questa epoca, epoca digitale? Tema fortemente attuale ed interessante che approfondiremo con il nostro ospite in studio a seguito della sigla. A tutti voi ben ritrovati ad una nuova puntata di Faccia a Faccia, il nostro programma di approfondimento giornalistico, puntata dal titolo Fare i genitori nell'era digitale. Ne parleremo con il nostro ospite, nonché esperto, sull'argomento, Francesco Rasponi, psicologo-psicoterapeuta presso l'Associazione Psiche Digitale. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Innanzitutto, l'Associazione Psiche Digitale, che cos'è? L'Associazione Psiche Digitale è un'associazione nata nel 2013, composta da psicologi che vogliono studiare l'interazione fra l'uomo e le tecnologie digitali. Con la premessa che le tecnologie non solo ci hanno cambiato il nostro modo di vivere, ma anche il nostro essere uomini. Da qui il nome Psiche Digitale. Qual è la vostra mission? Vogliamo che le tecnologie siano un'opportunità di crescita, una risorsa per lo sviluppo psicofisico del bambino, dell'adolescente. Vogliamo che sia un'occasione per favorire il benessere nell'adulto e non, al contrario, essere occasione di malessere o portatrici di guai. L'Associazione Psiche Digitale, che ricordiamo ai nostri telespettatori, si trova in Piazza del Popolo, presso il Foro Anonario. Quali attività propone? In questi anni, prima di tutto, abbiamo cercato di studiare l'argomento, perché i cambiamenti sono talmente repentini e profondi, che per capire quali sono le nuove patologie dobbiamo capire anche quali sono le nuove normalità. Quindi l'attività di studio, senz'altro, è la primaria attività in cui siamo impegnati. Poi il nostro sapere cerchiamo di metterlo a disposizione della cittadinanza, in primis con attività di formazione. In genere, in questi anni siamo stati impegnati in moltissime conferenze nei contesti scolastici, nei contesti educativi, ma abbiamo capito che un incontro ogni tanto è poco. Per questo abbiamo proposto alla cittadinanza nel novembre scorso il primo corso sulla salute digitale, come fare i genitori riguardo all'ambito digitale. E per l'adolescente che vive una particolare fase di crescita, lo strumento tecnologico rappresenta una sorta di partner significativo del proprio percorso di sviluppo psicofisico e sociale. Perché succede questo? Gli strumenti tecnologici, quindi intendiamo smartphone, tablet e le loro applicazioni, sono strumenti estremamente significativi per un adolescente. Faccio solo un esempio. All'interno di questi strumenti sono presenti i social network, Facebook, Instagram, Whatsapp, che sono veicolo di grande significato per un adolescente. Questi strumenti permettono all'adolescente di appagare il bisogno di appartenere a un altro gruppo, che non è solo il gruppo familiare, diventa un luogo di condivisione, un luogo che deve essere abitato e controllato costantemente, perché è in gioco anche la propria autostima. Spesso l'adolescente si chiede chi è che mi vuole bene e all'interno di questi strumenti è possibile avere una risposta, seppur parziale. Un mezzo per la costruzione della propria identità in qualche modo. Esatto. Facebook, o comunque i social, sono considerati dei laboratori di identità dove l'adolescente in formazione, in costruzione riguardo alla propria identità, si sperimenta indossando vari abiti che poi cerca di testare in base al successo del suo pubblico. Sembra un elemento di poco conto, sembra che l'elemento virtuale non abbia un significato così intenso, invece è uno strumento estremamente significativo. Uno strumento anche importante in quella fase per quanto riguarda il rapporto con gli altri e il mondo. Certamente, attraverso questi strumenti si esplora il mondo, ma si esplorono soprattutto le dinamiche relazionali, che naturalmente si devono interciare con la socializzazione concreta, quella classica. Lei Francesco ha citato di un corso, infatti presso l'associazione avete tenuto questo corso gratuito per fornire all'adulto gli strumenti per regolare la vita digitale in famiglia con equilibrio e serenità. In che modo si è svolto questo corso? Un corso che è stato proposto in tre incontri, perché è necessario darsi tempo per affrontare l'estrema complessità del mondo tecnologico di oggi. Un corso che vuole rispondere alle esigenze dei nuovi genitori, genitori che spesso sono incuriositi rispetto a questo tema, altre volte sono preoccupati, altre volte ancora sono rattristati nel vedere i propri figli così assorti davanti allo schermo. Ci sono anche vissuti di grande rabbia e impotenza da parte dei genitori e spesso i genitori non riesci a comprendere questo mondo. E allora questo corso vuole dare una risposta, vuole dare un significato alla vita digitale, la vita davanti allo schermo, affinché il genitore possa divenire anche in questo ambito un educatore autorevole, perché ricordiamoci che questi strumenti sono strumenti potenti che vanno gestiti il prima possibile in modo da fornire ai ragazzi sia la protezione ma anche la proposta delle cose migliori che ci sono dentro allo schermo. Abbiamo proposto quindi tre incontri che hanno avuto grandissimo successo, appunto che abbiamo dovuto attivare immediatamente anche un corso BIS. Ci tengo a dire che i corsi sono stati inventati e proposti in modalità permanente, per cui li faremo tutto l'anno, proprio per rispondere alle nuove esigenze dei genitori dell'era digitale. Bambini rapiti dagli smartphone, quando regalarlo? Questo è il primo tema che affrontiamo. Purtroppo non c'è una data precisa. Noi lanciamo una provocazione. Regaliamolo quando vi pare, però è importante che sin dall'inizio i genitori sappiano che cosa regalare. Ultimamente si è abbassata molto l'età in cui questo strumento viene regalato. Dalle nostre ricerche sembra che la prima comunione sia un periodo molto gettonato per questo regalo. Eppure ecco, è necessario che una volta regalato ci siano dei patti chiari, ci siano delle regole precise su come gestire questo strumento. Quali? Regole che hanno a che fare con il tempo su cui si può stare, perché è uno strumento talmente stimolante, talmente eccitante, che i ragazzi rimarrebbero rapiti molto facilmente, non sono in grado di gestirlo autonomamente. Per cui è necessario un adulto che dia un tempo, soprattutto se parliamo di ragazzini o bambini delle elementari o ragazzini delle medie. Non basta la questione del tempo, è necessario anche creare le condizioni affinché loro si comportino bene dentro agli schermi. Quindi tutto il galateo, ma anche tutte le regole di comunicazione per quanto riguarda i social network. E qui voglio citare semplicemente la questione del cyberbullismo, che è un fenomeno che merita una grande attenzione. E l'adulto deve vigilare su questo aspetto. E i casi sempre più in aumento, purtroppo, e ne parleremo. Dottore, immersi nei videogiochi, perdita di tempo o opportunità di crescita? Questo è l'argomento del secondo incontro, anche se si intreccia con il primo, dal momento che si può videogiocare anche attraverso lo smartphone. Il videogioco è un tema attualissimo, che i genitori conoscono molto bene, perché sanno quanto tempo i ragazzi di oggi dedicano davanti a questi schermi. Quindi ci dobbiamo chiedere se effettivamente è una perdita di tempo oppure no. I videogiochi possono diventare una perdita di tempo, ma sono attività molto arricchenti, che hanno un significato, che possono anche nutrire il percorso formativo del periodo adolescente e adolescente. Qui è necessario capire che i videogiochi dell'era attuale sono molto diversi rispetto ai videogiochi in cui giocavano i genitori. Sono strumenti molto utilizzati. Non sono quindi una perdita di tempo in sé, ma però sappiamo che il ragazzo può anche dedicare tantissime ore dimenticando altre attività che devono essere svolte, come lo studio, come l'attività sportiva, come la ricreazione concreta, come si considerava una volta. Le tecnologie possono essere, sì, supporto alla crescita, ma se usate in maniera impropria possono favorire lo sviluppo di problematiche e di nuove patologie. Sì, i grandi vantaggi sono indiscutibili, ma ci sono anche delle nuove patologie. Sia fisiche, per esempio ci sono problemi posturali, col fatto che i ragazzi spesso sono chini sul cellulare, ma per noi psicologi gli aspetti più critici sono legati alle dipendenze da internet, situazioni in cui la passione nei confronti di questi strumenti diventa esclusiva e il ragazzo o la ragazza sembrano decidere di dedicarsi totalmente a questo strumento dimenticandosi della vita concreta, della vita di tutti i giorni. Dimenticandosi significa dimenticare la scuola, gli affetti, le persone concrete che si sono conosciute. Ci si isola in qualche modo. Ci si isola e c'è questo nuovo fenomeno che stiamo studiando, che è appunto il fenomeno dei ritirati sociali, persone che non escono più di casa e che rimandano anche a quel fenomeno giapponese degli ikikomori. In che modo aiutarli? Allora, qui è necessario capire effettivamente di che cosa si tratta. Noi pensiamo che sia necessario educare molto i genitori, che capiscono effettivamente che cosa si può fare, che cosa non si può fare, in primis dal punto di vista preventivo. Per questo che è necessario affrontare la questione degli schermi digitali, non solo nel momento in cui regaliamo il cellulare, ma a partire dai zero anni d'età, dal momento che il bimbo, quando torna a casa dall'ospedale, è già avvolto dagli schermi. E anzi, assistiamo anche alla gestione da parte dei genitori dei momenti più critici, anche dai zero a tre anni, utilizzando lo smartphone come ciuccio elettronico. Già lì si creano le basi per una dipendenza da internet. Passiamo ad un libro. Mio figlio è stato rapito da internet, è il libro presentato in febbraio durante il Festival della Salute Digitale 2018, di cui lei è autore insieme ad Elvis Mazzoni e Michele Piga. Cosa è possibile trovare all'interno? I contenuti del corso, nel senso che è un libro molto facile da leggere, ma che aiuta il genitore a spogliarsi di eventuali resistenze o pregiudizie nei confronti del mondo tecnologico. Un libro che spiega il perché della passione dei ragazzi, ma anche degli adulti, nei confronti delle tecnologie, creando un bilancio fra gli aspetti positivi e negativi. Ricordiamoci che è bene considerare che sono strumenti estremamente complessi, dove possiamo usarli correttamente se siamo consapevoli di quello che abbiamo in mano. Ma il vantaggio di questo libro è che contiene anche una serie di linee guida, le abbiamo chiamate linee guida app, cioè accompagnare, proteggere, proporre, per aiutare il genitore nel gestire questi schermi con i figli a partire dai 0 ai 18 anni. Interessante. Quindi è una serie di linee guida frutto di un'integrazione dei contributi internazionali più recenti. È un valido strumento per aiutare il genitore in questa difficile impresa. Direi validissimo, dottore. Dov'è possibile acquistarlo? In tutte le librerie e anche online. Cosa stiamo guadagnando dalla vita digitale, dottore? È una domanda che ci dobbiamo porre perché facciamo la fila ad acquistare questi strumenti, ma ci dobbiamo anche chiedere quali sono i guadagni. Sicuramente i guadagni sono immensi. La vita tecnologica ci ha cambiati come persone, ci permette di condividere, ci permette di raggiungere qualsiasi tipo di informazione. Insomma, sono innegabili i vantaggi. Ci dobbiamo chiedere però anche... Cosa abbiamo perso? Cosa abbiamo perso? Perché inevitabilmente quando assistiamo a una rivoluzione qualcosa abbiamo perso, ma la domanda è che cosa rischiamo di perdere. Secondo lei? È una domanda importante che noi a Psiche Digitale ci poniamo costantemente, partendo anche dalla considerazione che siamo all'inizio dell'inizio dell'era digitale. Cosa perdiamo? Penso che ci dobbiamo fermare per ragionare un attimo insieme e smorzare un po' questo entusiasmo, questa luna di miele che abbiamo avuto nei confronti delle tecnologie in questi anni. Rischiamo di perdere molto se questo entusiasmo avvolge semplicemente gli schermi, come dire ecco adesso c'è la tecnologia, facciamo tutto con la tecnologia. No, non è questa la nostra visione del futuro. Le tecnologie ci devono servire per arricchirci, per dialogare anche con il mondo tradizionale quando queste tecnologie non c'erano. Ci deve essere la logica del et-et, non che adesso ci sono le tecnologie e dobbiamo fare tutto con la tecnologia. Sicuramente una cosa che abbiamo perso, che io ricordo perché le ho viste nascere le tecnologie, forse abbiamo perso quei momenti in cui si rimaneva soli, anche con i propri pensieri, quei momenti forse anche un po' noiosi che però ci permettevano di attivare il cervello anche in un altro modo. Il problema di questi strumenti è che sono molto eccitanti e si rischia di passare da un'eccitazione all'altra a scapito del pensiero riflessivo. E questo penso che dobbiamo discutere bene insieme. E rifletterci. Associazione Psiche Digitale e Futuro, cosa avete in previsione dottore? Abbiamo la conferma della seconda edizione del Festival della Salute Digitale, un contenitore innovativo, ambizioso, dove per primi in Italia abbiamo proposto questo concetto, salute digitale, nel senso che la salute passa anche da come utilizziamo questi strumenti, soprattutto se parliamo del bambino, del preadolescente, dell'adolescente. Un contenitore che si svolge in un momento specifico dell'anno, ovvero quando c'è il Safe for Internet Day, la giornata mondiale della sicurezza su internet, che qui in Romagna non veniva celebrato, non veniva ricordato. Noi abbiamo voluto mettere altri appuntamenti, rivolgendoci al mondo delle scuole, alle famiglie, ai pediatri, ai medici, insomma a tutte le persone interessate all'argomento, che possono svolgere un'azione protettiva nei confronti delle giovani generazioni. Dottore, siamo quasi giunti al termine di questa interessante puntata. Prima di salutarla, un messaggio per coloro che ci stanno seguendo da casa. Un messaggio, ecco, io vi invito a essere curiosi, soprattutto nei confronti di questo tema, a confronto del digitale, perché veramente in questi strumenti l'intelligenza dell'uomo ha reso il massimo livello. E penso che sia importante considerare gli aspetti positivi e negativi. Quindi vi invito a riflettere, a informarvi, a parlare costantemente di questa vita tecnologica anche con i vostri figli, perché il confronto in famiglia, e questo è stato dimostrato, rappresenta un elemento di grande protezione. Cerchiamo allora di indirizzare i nostri figli nell'utilizzo intelligente e in sicurezza della tecnologia senza esserne dominati. Io ringrazio Francesco Rasponi per queste interessantissime ed importanti informazioni. Grazie a tutti voi per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento sulla nostra rete. Arrivederci. Grazie a tutti.